Pace per la Siria, per il Medio Oriente, per le aree lacerate da conflitti come in Africa, per la drammatica realtà di ingiustizia che vivono i profughi, per le divisioni tra le due Coree, per le minacce ambientali. Ricevendo il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, Papa Francesco ha passato in rassegna le difficoltà e le crisi umanitarie e sociali che permangono nei diversi continenti. Ha sottolineato una volta di più che la Chiesa guarda con speranza al futuro, speranza costituita da quei giovani che desiderano un mondo migliore e più giusto incontrati dal Papa a Rio nella giornata mondiale della gioventù. Papa Francesco ha ribadito che la costruzione di un mondo migliore comincia in famiglia e le autorità civili devono tutelare questo fondamentale istituto. La pace, ha ribadito, persegue quell'ordine voluto da Dio ed è questo lo spirito che anima l'azione della Chiesa ovunque nel mondo, attraverso i sacerdoti, i missionari, i fedeli laici, che con grande spirito di dedizione si prodigano, tra l'altro, in molteplici opere di carattere educativo, sanitario e assistenziale, a servizio dei poveri, dei malati, degli orfani, di chiunque sia bisognoso di aiuto e conforto. A partire da tale attenzione d'amore, la Chiesa ha detto coopera con tutte le istituzioni che hanno a cuore tanto il bene dei singoli quanto quello comune.